e bello a tutti ragazzi nel mio contesto nuovissimo video oggi siamo su minecraft e oggi come in questo video andremo a esplorare delle celle molto, delle celle spawnate allora mi sono già creato una base qua ci sono due scp che ho già trovato e che non volevo farvi vedere perché sono troppo banali il quadro del scp dei 151 e poi il scp 096 ovvero shaggy questo quadro è, vabbè, è stupido perché se tu lo guardi è come se tu stessi a negando entriamo nella cella dello shaggy vabbè e questo qua ha esattamente 1000 di vita ho controllato e tipo si rompe una spada oh mio dico si è cavato addosso si rompe una spada di tele che è questa qua non lo uccide neanche vabbè e come occupaggiamento non ti ho guardato vabbè come occupaggiamento mi sono attrezzato con una spada di tele che non rotta poi uno store di pickaxe perché è quello che mi sono potuto permettere una kicker di livello 4 che è stato semplice ma stavo a prendere aspetta che mi sono messo anche un altro ecco questa qua ho messo 3 smeraldi un pezzo di carta che si trova un frosilmente nella cella e due coloranti l'arancione e il rosso vabbè questo qua sono semplici questo qua serve il brick questo qua l'iron gold smeralda questo qua non me lo posso fare ok un po' di caro ok non si può vedere vabbè poi mi sono fatto il coin ho trovato in una cella questo qua serve per creare tipo qua ci metti il documento il blank document che è il documento vuoto e qua ci metti il token dell'SGP tipo 096 prendi il token metti un blank document e fai craft il document e chi esce il document tipo l'SGP poi qua ci abbiamo gli scaffali comunque ho ucciso un clipper qua gli scaffali una serie dove qua ci sono parte delle cose e vabbè in questa serie non so se arriverà anche qualcun altro e chi boh non lo sai perché si io non sono da PC tutti i miei amici sono da PS4 e quindi vabbè allora e muori madonna mi serve devo trovare la cella infatti ci sono molte cella allora mi sembra che qua davanti ce n'era una e l'ho già distrutta per fare ancora da dove cacchio vuoi nooo cacchio devo vedere la mia cella perché ci sono due uguali aiuto allora io direi di andare a esplorare quella cella c'è un'imperio c'è un'imperio c'è un'imperio c'è un'imperio e ce n'erisio c'è un'imperio non so che pericolosi perché si serve la chiave di livello 5 ok l'acqua della giovinezza vuoi diventare giovane no no non ci provate non ci non dire che da anche il caso lo scherzo non deve darne cosa all'immobile vero guardiamo nei cassetti che una batteria carta un secchio intanto mi porto non si può prendere non si può prendere davvero perché non si può prendere la foto la dolcezza non allora cosa io voglio diventare giovane infinito cosa cosa infinito impossibile sono così potente all'infinito allora ho com'è finito wow vabbè verrò dopo a vedere perché non so non posso prenderlo ma veramente finito mi prendo il double hai visto che abbiamo fatto così poco tempo possiamo andare a vedere anche un'altra cellula quella lì o quella? quella lì o quella della messa? questo qua? ah questa qui è casa mia vabbè andiamo ma dove è l'infinito scusate? è l'infinito la pizza è infinita no 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 ora mi dici perché non funziona? dove cacchio è mia pizza? cosa devo cattare? perché non lo posso avere scusa? no perché non posso avere la pizza? no 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 clicco col testo destro e sinistro perché non lo posso avere scusa? dove cacchio è la mia pizza? ma scusa secondo me non posso avere la pizza? cosa mi serve un coltello? andiamo a vedere scusa? ma perchè non posso avere la pizza? cosa mi serve un coltello? andiamo a vedere scusa qua mi serve un coltello? no ma per che scusa? cos'è? cosa si deve avere per avere la pizza? cosa si deve avere un coltello? magari? vabbè vabbè ragazzi e dovrò unisciutio infatti lion mi sa che è un bug perchè lion ha la versione prima della mia questa qua è l'ultima versione infatti io non ho la micard e mi sa che sia un bug proverò a rimettere la vecchia versione così vedrò se riuscirò a sbaggarla la pizza è finita infatti chiedono the never ending pizza box quindi la scatola della pizza è finita ma non si apre non si vuole aprire mai se ti sfocco cos'è? ma è ma non non scusa bisogna aprirla no si apre serve qualcosa di speciale mi sa vabbè per questo episodio ci fermiamo qui e ci vediamo in un prossimo video se riuscirò a capire come si può avere questa pizza cercherò di rimettere la vecchia versione e ci vediamo in un prossimo video e ciao